Consigliere Marrazzo, oggi si incontra alla scuola, sul piano strategico l'asse 2. Un incontro importante con le parti sociali, un incontro dove sono venute fuori una serie di idee. E' importante in questi incontri, in questi tavoli, confrontarsi affinché si recepiscono ciò che è di buono, le idee che possono migliorare la nostra scuola. La città metropolitana si occupa degli edifici scolastici, ma mi è sembrato di capire anche dalla discussione di oggi che si può fare ancora di più che aggiustare gli edifici e costruire scuole. Assolutamente sì, si può fare di più perché grazie agli edifici scolastici, grazie ai laboratori dove materialmente possono mettere in pratica i ragazzi ciò che imparano in teoria, noi possiamo implementare l'utilizzo, l'uso di questi laboratori costruendo nuovi laboratori affinché possano avere una didattica completa per i nostri studenti. Che impatto ha sul piano strategico della scuola? Se volessimo indicare delle cifre più o meno, quando sarà la cifra che la città metropolitana impegnerà in ambito scolastico? Ciò che impegneremo per gli istituti superiori di nostra competenza, il piano strategico avrà un impatto dai 60 agli 80 milioni di euro.